Sono molto contento di essere qui con il popolo ucraiano, specialmente in questo momento quando c'è guerra, di appellare alla Madonna per la pace è molto importante, ma apporto anche la solidarietà di tutte le chiese dell'Europa e questa unità è molto importante. Grazie mille, molto piaceremo anche per l'approccio che oggi potrei chiedere in questo nazionale sanctuario per la libertà in Ukraine, ma anche per dare solidarietà a tutte le chiese in Europa, a tutte le conferenze e tutti i veri.